Come si è arrivato a Moena per un'ora e mezza? Sotto il tacco c'era una specie di chiodo, questo con l'umidità, con il marciume, si è staccato dallo sci, si è attaccato nella scarpa sia nella destra e nella sinistra e a furia di battere mi hanno zervato completamente gli sci e quindi gli sci non scivolavano più. In pratica io ho camminato, ero sicuro di arrivare in un tempo per me favoloso, ho camminato da Predazzo fino all'arrivo, in quegli anni arrivavo sempre le prime 500, sono arrivato 1800 e appena passato il traguardo ho alzato gli sci che si sono piegati in due. Erano tenuti insieme solo da serigrafia, quindi d'altra parte siccome ero io quando ho fatto i conti dei senatori e se mi fossi fermato intanto tutto il lavoro sarebbe andato perso e poi non sarei potuto diventare senatore. Quindi ho camminato fino all'arrivo, l'ho terminata in un tempo molto più alto di quello che avrei fatto normalmente e questa è quella che mi ricordo di più. Un'altra, anche per un altro episodio abbastanza buffo, per un periodo ho corso con le lenti a contatto e un anno ero in prima fila, mi sono sfregato gli occhi e una lente a contatto è caduta nella neve. Ho detto, oh come faccio adesso a fare 70 chilometri con un occhio sì e un occhio no. In quel momento è passato uno che faceva riprese televisive, ha illuminato lì e quello vicino a me ha raccolto la neve e insieme alla neve la lente a contatto nella mano, me la sono rimessa e l'ho abbracciato e baciato, era un uomo e l'ho baciato ugualmente. Questi sono episodi che ricordo delle mie. L'altra cosa tipica è che sempre sull'ultima salita uno dice questa è l'ultima, poi appena passato il traguardo si rivede gli altri e dice beh ci rivediamo st'altro anno. Questo è il tipico fatto psicologico del stare per arrivare o essere già arrivati. Un'altra cosa che soprattutto era evidente nelle prime quando eravamo meno e soprattutto la maggior parte non sapeva sciare quindi dopo predazzo ci trovavamo abbastanza soli o con qualcun altro. Nella prima metà i vicini erano nemici con cui bisognava lottare, dopo la metà i vicini diventavano amici con cui si chiacchierava e si diceva ci manca ancora tanto questo, quell'altro eccetera. Quindi è stato anche questo fatto psicologico così era estremamente interessante. No, tranne appunto quella volta che avevo rotto gli sci ma ho dovuto addirittura andare in una casa a farmi dare un cacciavite per stringere gli attacchi che si erano mollati, quindi proprio cose, però mancavano 30 chilometri e ho detto vabbè la finisco. C'era gente sulla porta che mi prestate un cacciavite e mi sono stretto gli attacchi perché a furia di forzare perché gli sci non tenevano si erano allentati. Era ancora il periodo degli attacchi destro e sinistro. Un'altra cosa che ricordo bene è stato l'anno in cui siamo partiti da Campitello con un quarto d'ora di anticipo e io ero andato a portare via il sacco, non avevo ancora gli sci nei piedi, sono tornato lì, li ho trovati girati, ho cercato di metterli su il destro e il sinistro e poi sono partito spingendo fra i canali, passando la gente, rimontando un mucchio di miei compagni di squadra, quella volta eravamo una ventina della mia società e dopodiché sono riuscito ad arrivare abbastanza avanti. Sono queste cose che rendono Marciolonga una diversa dalle altre che uno ricorda di più. La mattina ma soprattutto quella mezz'oretta che si rimane lì a aspettare prima della partenza. Una volta partivamo tutti in un mucchio e quindi io andavo lì più di un'ora prima per poter partire davanti e quindi mi mettevo in prima fila, non avevo diritto di partire davanti come adesso dei senatori, quella volta me lo conquistavo mettendovi davanti. D'altra parte siccome tipicamente arrivavo nei primi 500 mi sembrava anche abbastanza giusto che fossi abbastanza avanti. E c'è sempre un po' di mal di stomaco prima di partire, lo stomaco si torce un pochettino e questo appena partiti finisse. Marciolonga è cambiata molto chiaramente, è cambiata molto perché nelle prime Marciolonga la gente che sapeva sciare era una frazione abbastanza piccola, non più del 10%, forse il 20% nella prima e arrivava gente non preparata che non sapeva sciare. Adesso tutti arrivano molto ben preparati fisicamente e la maggior parte della gente sa anche sciare, probabilmente sono gli ultimi mille che si arrangiano, tutti gli altri sanno sciare. E l'altra differenza molto grande, nella prima non c'erano stranieri, adesso è pieno di norvegesi che non hanno rispetto per nessuno e quando ti arrivano vicino ti spingono e ti buttano per terra. Nonostante noi abbiamo il pettorale diverso, mentre tutti gli italiani ci incitano, ci chiamano per nome, adesso che abbiamo il nome scritto direttamente, una volta la gente per incitarci guardava l'ordine di partenza e trovava il nome, adesso lo trova scritto, quindi gli italiani tutti quanti, forza senatore, bravo senatore, i norvegesi arrivano vicino e ti spingono e ti buttano per terra, non hanno rispetto. Ma tipicamente in primavera corro e d'estate quando sono su al mio paese vicino a Tarvisio c'è una pista ciclabile molto bella e faccio ski roll e adesso alterno ski roll a corsa. Appena viene la neve, io abito a Trieste adesso ma sono di vicino a Tarvisio, appena viene la neve cerco di correre su. C'è stato un periodo in cui era venuta neve abbastanza vicino a Trieste, sull'autopiano in Slovenia e quindi andavo la mattina presto, mi preparavo una pista di 3-400 metri, non di più, battuta a piedi e giravo lì. Anche l'inverno scorso non avevamo neve a Tarvisio, c'era solo la neve artificiale nella pista Paruzzi dove il giro era a sieno di 500 metri e quindi mi facevo 20, 30, 40 giri. La gente dice ma come fai a contarli? Guardo il tempo medio che ci metto, poi guardo il tempo totale e divido. Faccio paraffinare due paia di sci diversi per neve più fredda, neve meno fredda, poi sciolinare sciolino da solo invece. Quando c'era impattinato allora no, mi facevo anche paraffinare gli sci, ma per l'alternato mi sciolino da solo. Ma le prime tre in cui patinavano io andavo ancora in alternato e arrivavo a Moena che ero ancora nei primi 6-700 e poi da predato in giù mi passavano 100 alla volta e quindi ho dovuto imparare a patinare, che non mi piace neanche adesso, però ho dovuto imparare. Quando si è trattato di tornare all'alternato io ho votato per l'alternato. Quell'alternato sono nato da bambino 70 anni fa, quindi è chiaro che volevo continuare con l'alternato. Mi ricordo un anno arrivati poco dopo lo stadio, l'anno prima è stata neve molto veloce, ci avevo messo un po' più di cinque ore. Ho detto a quello vicino a me, eh, l'anno scorso a quest'ora ero già arrivato. Quindi questo se vuole può essere un pochino così più umoristico. Io sono anche abbastanza conosciuto qui in valle perché ho fatto molte gare di orientini, quindi molta gente mi conosce per quello, ma direi che qui in valle la gente incita tutti i concorsi, in particolare i senatori, perché vedono il colore del pettorale, adesso addirittura il nome, ma da quel punto di vista la gente in valle è estremamente calda e incita molto i concorsi. Mi ricordo anche alla prima quando eravamo praticamente isolati, andavamo uno alla volta, perché una volta passata a Moena si vedeva uno 100 metri avanti e uno 100 metri indietro, perché sui mille ce n'era 700 che andavano piano, io ero arrivato a 190, qualcosa così. Direi che anche quella volta la gente incintava nella stessa maniera. Chiaramente adesso da quando abbiamo il pettorale di senatori lo diventa ancora di più. Lei forse non sa, i senatori li ho inventati io. Io ho fatto nelle prime dieci il conto a mano, cercando nella classifica del secondo anno i primi mille e poi in quelle del terzo anno quelle che erano rimaste, facendo le somme e poi ho mandato agli organizzatori della Marcia Longa i miei conti dicendo fate qualcosa. Il nome senatore l'hanno inventato loro, però il concetto, anche per quello non mi sono fermato all'ottava, perché se no, se mi fermo tutto il lavoro che ho fatto è per niente. Io ero in Norvegia, a Oslo, dove insegnavo l'Università di Oslo per tre mesi, dove ho fatto la prima gara lunga di 90 chilometri, ero arrivato primo degli stranieri addirittura, e compravo il giornale, il Corriere della Sera, in edizione quella molto molto sottile per postaerea e ho letto che ci sarebbe stata questa gara lunga in Italia. Ho detto, ah la faccio anch'io, senza il minimo dubbio. Di quella in Norvegia sapevo che ero arrivato primo degli stranieri, ma non sapevo né il mio tempo né la mia classifica. Un tre anni fa giù da noi a Trieste è venuto un norvegese, è venuto a sciare con me, glielo ho raccontato, lui ha mandato un mail agli organizzatori e questo era nel 70, quindi 35 anni dopo hanno trovato cosa ero arrivato e che tempo ci avevo messo. Quindi sul diploma ho scritto Grenadier Loppet, una gara che gira intorno a Oslo, a parte da un punto, gira intorno alla foresta, nella Nordmarca e arriva da un'altra parte. Tutto boschi e laghi e se lì uno si perde, se si ferma, non è come qua, che c'è continuamente un muro di gente che si passa nei paesi. Ricordo, anche questa è una cosa abbastanza buffa, che dopo ho arrivato, tendenzialmente mi faccio sempre levare l'uscita a qualcuno, perché dopo 70 km, adesso poi soprattutto con la schiena rigida, e lì un soldato si è piegato, mi ha staccato l'attacco, una volta c'era la forchetta, si è spaccata la forchetta, dopo l'arrivo. Si immagina se mi succedeva a 40 km dall'arrivo perso nel bosco della Nordmarca, in Norvegia. Posso dirle che quando non riesco a dormire, penso al percorso della Marsa Longa. Allora sono partito, adesso sono passato dalla centrale, ho fatto la prima salita. Tipicamente quando arrivo a Soraga, mi sono già addormentato.